prendete io solo queste ciò se ce l'avessi avute più grosse c'è un'altra cosa più grossa ma non so le pinze ci avessi avuto le pinze più grosse le avrei prese per la realizzazione di questo video ragazzi non si può manco definire un indiscrezione questa è una suggestione di calciomercato però visto che c'è stato questo accostamento al giocatore da parte del milan ovviamente vorrei esprimervi un mio parirea riguardo quindi hi this is gabon a youtube è una cosa di quelle esagerate e tiro non si stacca perché è troppo potente rispetto alla grandezza delle pinze ma prima di continuare ragazzi vi invito a scaricare dal link in descrizione one football a mio modo di vedere la migliore applicazione per seguire il mondo del calcio gratuita sia per ios e sia per android lo ripeto è gratuita provatela e sono sicuro che non ve ne pentirete siamo tornati con questo nuovo video perché ne ha parlato anche sky sport in realtà sembra che ci sia stata un'intensa chiacchierata tra la gente di luca modric e il milan l'obiettivo sarebbe quello di provare dopo gli acquisti di ben naser praticamente ormai cosa fatta è crunic l'obiettivo sarebbe quello di provare a portare al milan un centrocampista ragazzi non stiamo parlando di pizza e fighi stiamo parlando di un pallone d'oro di un giocatore che farebbe comodo a qualsiasi centrocampo del mondo a prescindere perché è un giocatore che non si trova facilmente a livello tecnico ragazzi un giocatore del genere se ne trovano veramente pochi attualmente dei centrocampisti così e non a caso ha vinto il pallone d'oro ci sono però un po di problemi allora partiamo da un lato positivo il fatto che luca modric sia ovviamente amico de boban e va bene però amicizia secondo me fino a un certo punto in questo video ovviamente vi voglio esprimere quello che è il mio parere e poi magari voi qui sotto nei commenti esprimete con civiltà il vostro parere allora c'è un piccolo problema che il milan quest'anno non fa le coppe che luca modric sicuramente è un ragazzo molto ambizioso e credo che l'obiettivo minimo de modric eventualmente per cambia squadra sia sia quello comunque di giocare le stesse competizioni che fa attualmente con real madrid quindi campionato coppa di lega e uefa champions league questo credo che sia veramente un ostacolo abbastanza alto secondo me poi nel calcio ragazzi mai dire mai perché lo abbiamo visto anche in passato può succedere veramente di tutto a prescinde e un altro ostacolo ovviamente è il contratto perché ragazzi luca modric con il real madrid ancora se non sbaglio altri due anni di contratto a 12,5 milioni di euro netti all'anno sicuramente un contratto particolarmente importante per un classe 1985 ma diciamo che questo potrebbe anche essere l'ultimo dei problemi perché non so qual è la disponibilità economica del milan ma da quel che so ragazzi adesso che hanno risistemato la situazione col col fair play finanziario le disponibilità dovrebbero averne quindi diciamo che potrebbe anche non essere un problema però guardando 12,5 milioni di euro netti all'anno a bilancio per un singolo giocatore sicuramente ti va aggravare e non poco quindi bisogna diciamo guardare la situazione nel complesso la situazione dell'inter dello scorso anno era un po' diversa perché modric è amico dei tanti croati che stanno e non è che era è ancora amico era nel senso che è una trattativa dell'anno scorso è amico dei tanti croati che erano nell'inter versalico perisic quello quell'altro e quindi magari si stava un po' facendo trascinare che l'inter ci abbia provato assolutamente non c'è non c'è alcun dubbio poi però vi ricordate ci fu la presa di posizione da parte di florentino perez che disse tu non te muovi lui diciamo che essendo un ragazzo d'oro secondo me non a caso ha vinto il pallone d'oro non è uno che si mette a fastorie non è uno che si impunta è un professionista serio e quindi diciamo che ha lasciato correre la situazione e alla fine ha deciso di restare a real madrid non sarebbe una trattativa assolutamente semplice da da intavolare perché comunque lo ripeto stiamo parlando di un pallone d'oro che ancora fa la differenza classe 1985 però come giusto che sia ragazzi il tifoso è giusto che provi a sognare il tifoso è giusto che provi a sognare a me solo un accostamento eventuale dei modric alla roma modric starei veramente non ci sta niente non hanno solo fatto una chiacchierata magari l'hanno buttata là scherzosamente a me già mi farebbe piacere solo quello perché perché il tifoso è un sognatore perché il tifoso nella sua squadra del cuore vorrebbe vedere arrivare tutti i più grandi campioni sappiamo che è impossibile a meno che non tifi la squadra in assoluto più forte e più ricca del mondo è normale che il tifoso c'è spera c'è sogna se c'è stato un accostamento fate benissimo a sperare a sognare come hanno fatto i tifosi dell'inter la scorsa stagione per me secondo me è una trattativa particolarmente difficile fu così che modric arrivò al milan ve lo auguro che vedevo dire mi piacerebbe vederlo alla roma ma non credo che sia un'operazione sinceramente possibile anche per la roma perché siamo alla stessa identica situazione del milan facciamo l'europa league ma comunque non facciamo la uefa champions league ripeto credo che modric il suo obiettivo sia quello di o di alzare l'asticella e quindi magari non lo so andrà a parte che c'è sta meglio del real madrid ragazzi sì l'anno scorso alti bassi quello che vi pare ma real madrid è un club che negli ultimi anni la champions league l'ha vinta veramente tante volte e credo che quello sia il suo obiettivo sia di di giocare appunto la champions league eventualmente prova a vincere un altro pallone d'oro e posso anche sbagliarmi tutto quello che volete ma lo ripeto fatemelo sapere qui sotto nei commenti lasciate un bel mi piace su questo video arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste fatto e attivate la campanella a fianco al tasto iscriviti è molto importante perché se no ragazzi non ricevete tutte le novità dei miei nuovi contenuti di conseguenza non vi costa niente tanto iscriviti e campanella ce l'ho veramente in secondo se volete restare aggiornati poi se volete iscrivervi ma non volete contenuti cose ok dice no me li vado a cerca io e vabbè allora non attivate ovviamente la campanella ce mancherebbe iscrivetevi anche sui miei seguitemi sui miei profili social vabbè alla fine la stessa cosa instagram e telegram vi lascio i link in descrizione a voi la parola nei commenti un sondaggino in alto a destra in cui vi chiederò qualcosa ovviamente inerente a questa trattativa barra suggestione barra sondaggio ecco mettiamola così e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video è inutile che vi dico quello che potrebbe dare Modric al Milan perché Modric a qualsiasi squadra potrebbe dare un apporto di quelli pazzeschi ragazzi il livello del centrocampo qualsiasi esso sia salirebbe del 50 60 per cento perché la qualità che ci mette Modric ce la mettono veramente ben pochi ai giorni nostri di conseguenza alla prossima con un nuovo video ragazzi miei bella a tutti